Allora se faccio così... Ma dico, ma si può sapere dove sei stato? No, sono andato a fare una corsetta qua giù. A fare una corsetta? Dico, a fare la corsetta. Ma comunque scusami, lo sport fa bene. Cioè voglio dire, tu non hai mai fatto sport. Hai passato tutta l'invanza a giocare con la Playstation e adesso vai a correre. Ma a correre per cosa? Che sei così magro che il rombo scompare senza bisogno dello schiocco di Thanos. Ma tu piuttosto dove sei stato? Ah, io sono stato a casa, a differenza di qualcuno. A casa. Con il ciubbotto. Con il ciubbotto da zona rossa. Cioè, tu mi vuoi far credere che stai a casa con il ciubbotto messo? Senti, fa freddo in casa, giusto? Non mi va di accendere il termosefone e quindi sto benissimo con il ciubbotto. Ma poi, insomma, perché ti devo andare a raccontare tutte le cazzate a te? Senti, comunque dai, lasciamo perdere, non mi interessa. Anzi, ringraziami perché nel frattempo che sono uscito sono andato a pagare le bollette. Perché se non era per me, se non era per me, a quest'ora rimanevamo a casa e chiusi, al buio e senza internet. Bravo. Bravo il coglione. Cioè, coglione ci sarai tu perché ci pensi sempre all'ultimo minuto, eh? Cioè, ma dico, non li senti tra i giornali? Cioè, non si guadagna neanche una lira e tu vai a pensare a pagare le bollette. Ok, va bene. Ora, ci mangiamo la luce, viviamo con la fotosintesi clorofiliana. Ma scusa, mica sei una pianta. Eh no, non sono una pianta, ma sicuramente una pianta e c'è più intelligenza di te. Vabbè dai, piantamola, piantiamola con questo discorso. Ma scusa, mi prendi per il culo? No, perché? No, perché parlavamo di piante e quindi tu hai detto, vabbè dai, lasciamo perdere e chiudiamola qui.